e buongiorno mondo in una giornata completamente uggiosa con le nuvole che ormai toccano terra stiamo andando a visitare bobbio quindi buona passeggiata a voi anzi buona passeggiata a noi a puccetto rosso sempre presente lei e il suo freddo andiamo a buttare l'immondizia qua nel bidone via che si va 1 1 2 2 1 1 1 2 3 1 2 Grazie a tutti. 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 Mi sa che vi salutiamo qua, io e Cappuccetto Rosso che finalmente si è tolta il cappuccio nonostante ci sia il vento, perciò ragazzi alla prossima. Ciao. Grazie. 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 Grazie.